martedì 25 febbraio 2020 se noi ci sforzeremo di amare gesù questo solo scaccerà ogni timore da noi e nelle vie del signore l'anima sente che non cammina ma vola se ti è piaciuto questo video metti pure un like un commento sarebbe graditissimo puoi iscriverti al canale appunto cliccando iscriviti e con l'opzione della campanella attivata puoi attivare tutte le notifiche per avere in tempo reale l'uscita dei video che più o meno sono in ordine di 12 al giorno grazie e dio ti benedica